Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano, dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. C'è un detto popolare che ritorna alcune volte, che ha una sua forma di verità ma anche pericoloso. Ci sono dei detti che noi abbiamo, che nascono dalla cultura popolare, sono molto belli, importanti, veri, però devono essere interpretati bene. L'epifania tutte le feste porta via, si dice. Ora, attenzione, è vero ma fino a un certo punto, perché l'epifania non è altro che la manifestazione della missionarietà della Chiesa, ma la missionarietà della Chiesa, se no, finita le feste, gabbato il santo, via, si comincia il nostro tran tran. Nella liturgia non è mai così. Andate in pace nella liturgia non vuol dire state in pace, vuol dire fatevi missionari della pace in tutto il mondo, no? In tutto il mondo che vuol dire i tuoi mondi, lavoro, studio, famiglia, ambiente, eccetera, no? Allora, epifania vuol dire, epifano vuol dire manifestazione, manifestazione di quel bambino, figlio di Dio, che si rivela al mondo intero come colui che è venuto a portare la pace, cioè l'armonia tra Dio e l'uomo, tra gli uomini, tra gli uomini e il mondo, il cosmo. E allora ecco, è bellissimo questo testo dell'epifania perché parla di due termini, tante cose, ma vorrei sottolinearne due. Prima si parla di grazia, è apparsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza, eccetera, eccetera. I magi, che sono coloro che guardano il cielo, sono sapienti, eccetera, guardano ma perché hanno ricevuto, non vanno a caso in quel luogo, vanno guidati, guidati. E quindi io credo che noi dobbiamo imparare a lasciarci guidare. Chi ti guida? Chi guida la tua vita? Perché nel testo di Matteo ci sono varie guide. Erode è guidato dalla sete di potere, non si sposta perché come tutti i potenti hanno i sudditi, non si muove, ha le cose portate un po' come delle volte capita a noi, tutto pronto, sappiamo tutto ma non siamo sapienti, non siamo saggi. I saggi sono coloro che si mettono in cammino, i ricercatori perché sanno che la verità non è un possesso ma un dono, grazia. E allora questo io credo che sia il primo messaggio dell'Epifania. Tutto è dono, tutto è grazia. Se ti lasci abbracciare dalla grazia, dal dono, se ti lasci guidare da non possedere ma ricercare, perché sei un ricercatore della verità, della bontà, della giustizia, della pace, eccetera, allora non sarai fermo ma dovrai camminare. E qui è il rischio di tutte, si fa presto ad essere sedentari, no? Quando noi diciamo c'è un libro interessante e parla degli sdraiati, no? Per gli adolescenti. Io credo che i cristiani possono essere degli sdraiati sulle sedie delle parrocchie e non si muovono da lì, oppure occupano dei posti. Mentre invece dobbiamo imparare dai magi, la vera grazia è muoversi, ricercare, che non vuol dire non possedere, eh? Attenzione, vuol dire essere in cammino. Escatologia vuol dire questo, eh? Perché a volte certe persone pensano di possedere la verità e parlano di escatologia, ma escatologia vuol dire il popolo di Dio in cammino e in cammino vuol dire coloro che ricercano sempre la verità, coloro che ricercano sempre la giustizia, coloro che ricercano sempre. E in questo camminare insieme si incontrano i compagni di viaggio e allora credo che questo sia un altro elemento importante, no? Non sei solo a camminare, cammini in cerca della verità, della giustizia, della pace, una verità, una giustizia, una pace che hai dentro il tuo cuore, già, che possiedi, ma che non ti soddisfa perché sei continuamente ricerca. In questo cammino i tuoi fratelli, le tue sorelle ti aiutano. Voi pensate, i magi si fanno consigliare, credo che questo sia un'altra cosa molto bella, no? Ti si accendono la luce quando qualcuno ti consiglia, ti aiuta. Io qualche volta che mi capita di andare in montagna, no? Poi casomai perdi il sentiero, oppure non sai dove andare. E cosa ti succede? Che il tuo volto si preoccupa, è ovvio che ti preoccupi, dici dove sto andando. Poi trovi qualcuno che cammina con te, oppure sta tornando da qualche pausa e dici scusa, dov'è questo posto? E quello te lo dice, e i tuoi occhi, il tuo cuore si rilassa. Allora facciamoci aiutare dagli altri. Il secondo grande elemento discriminante sul dono è che il dono non deve essere mai farci diventare superbi. C'è un testo, un termine molto bello in Vangelo di Matteo, dice che quando arrivarono si prostrarono ad adorarlo. Ecco, io credo che la adorare, cosa che non fa Erode, perché non si prostrerà mai davanti ad altri, il potere non si prostra, il potere fa prostrare gli altri. Bene, gli Magi riconoscono una supremazia, quel bambino. Ecco, è la prostrazione adorante verso l'Eucaristia. Pensate, il Papa ha parlato dell'importanza dell'adorazione, nei messaggi anche natalizi, nelle omelie. L'adorazione vuol dire prostrarsi davanti a Dio. Io non sono Dio, ma prostrarsi anche verso le presenze di Dio, no? Prostrarsi verso il povero, prostrarsi verso gli ultimi, prostrarsi verso luoghi dove Dio si rivela a te. È la carità, è la carità. I Magi vivono la carità, perché la prostrazione non vuol dire sudditanza, ma vuol dire riconoscimento. Ecco, riconosciamo la presenza di Dio che continua a guidare il nostro cammino e lì troveremo quella verità che ci renderà sempre più liberi. Buona epifania e aguri, aguri veramente forti per i nostri fratelli orientali che celebrano oggi il loro Natale.